Musica Buonasera, ben ritrovati a Primus Interpares, consueto appuntamento del mercoledì con i sindaci e ovviamente ogni 15 giorni abbiamo il sindaco di Padova Massimo Mitonci che è venuto a trovarci anche questa sera Buonasera direttore, un caro saluto a tutti, sempre con la mia voce uguale La voce è stata una settimana, questa sera ne parleremo, parleremo delle dichiarazioni dei componenti di Forza Italia, del PD insomma sarà una piuttosto molto interessante e poi parleremo dell'ordinanza con la stampa, poi ritratta non parleremo di tante belle cose così, puoi dichiarire tutto quello che è successo Una sera molto interessante Sarà molto interessante, parliamo dell'ospedale State in una settimana, subiteci Perché sarà molto interessante Esatto Facciamo, iniziamo Ieri è l'assessore ai bilanci, tributi e patrimonio Mi è sfuggito l'assessore alla mobilità perché per tanto tempo quando era sempre stato l'assessore alla mobilità L'ho mai voluto dire così, però non lo è più Insomma noi l'abbiamo sentito, siamo andati a dicere tutta la stampa padovana nell'ascoltarlo Perché ha convocato una conferenza stampa, noi abbiamo strapolato dei passaggi In contemporanea alla giunta In contemporanea alla giunta Perché avevamo la giunta alle ore 10 Allora Ed purtroppo era assente e abbiamo scoperto dopo che era al pedrocchi Ah perché non lo sapevate che facevano No, avevamo alle 10, noi di solito ogni martedì abbiamo alle ore 10 Incontro con i dirigenti, che è una cosa che una volta non si faceva, ho introdotto io con la mia amministrazione Quindi io due volte a settimana vedo i capi area del comune Ovviamente per tematiche sempre di carattere tecnico E dopo alle ore 11 in punto comincia ogni martedì la giunta Che dopo va a oltranza, certe volte è mezzogiorno e mezzo, certe volte è l'una Dipende insomma dagli argomenti E lui non era presente E dopo abbiamo visto che era in diretta streaming Direttamente dal pedrocchi Dal pedrocchi E noi ovviamente non potevamo mettere tu a conferenza Perché anche si è dilungato parecchio Perché doveva sbirciare fra le carte che aveva scritto E però abbiamo strappolato 2-3-4 minuti di intervista Abbiamo cercato di riassumerlo tutto quello che lui ha detto Andiamo ad ascoltarlo e poi lo commenteremo in studio con te Andiamo a sentire Oggi sono il coordinatore di Forza Italia a Padova Come lo ero alle elezioni del 2014 Come lo ero a fianco dell'attuale sindaco Bitonci in campagna elettorale Come ho aiutato il sindaco a scrivere il programma elettorale Forza Italia non è un autobus Né per sindaci Né per consiglieri Oggi si apre un problema politico Perché Bitonci è il presidente della Liga Veneta Giusto? Che ricordo che ha preso alle comunali Il 4,89% Mentre Forza Italia ha preso il 7,43% Da solo il sindaco Attuale sindaco non si sarebbe nemmeno presentato i blocchi di partenza Ci sono vari temi dove in questo periodo ci siamo confrontati I programmi elettorali C'era un programma che riguardava anche l'ospedale E' chiaro che Tutto si può cambiare lungo il percorso Però l'importante è spiegarlo ai cittadini Il perché lo si fa E soprattutto quando lo si fa La pagina nuova deve essere scritta Assieme Il plebiscito Abbiamo votato il primo stralcio L'ho votato in giunta L'abbiamo votato nel programma preventivo Parlo dei temi che hanno condizionato Insomma questa situazione finora E Ho portato addirittura i parcheggi Per fare sicuramente un area scambiatore Però C'è una C'è abbiamo qualche perplessità Perché ci potrebbe essere una lievitazione Di costi Che non sappiamo ancora dove si va a finire Quindi se Bitonci ha qualcosa da chiedere a Forza Italia Lo chiede al segretario cittadino di Forza Italia Che sono io Se ci sono cose politiche Da oggi Sarebbe stato anche da ieri Perché comunque Ripeto sono stati i fautori della vittoria Rapporti con Con il resto del territorio dove governiamo assieme Splendidi Siamo assieme in regione Siamo in parecchie amministrazioni Quindi è un problema È un problema caratteriale Qui non ci sono in discussione posti Non ci sono in discussione disonestà Ci sono dei problemi seri caratteriali E a questo punto Serve una taratura nuova Con il sindaco Ecco abbiamo sentito un passaggio Allora Una cosa che per me Io credo Guardando la storia tua Lui ha detto che Tu avevi il 4% Il tuo partito In effetti La lista Bitonci aveva il 20% Più o meno Non vorrei sbagliare i dati Questo dato Grigoletto Non l'ha ricordato Sì ma io non stare neanche Non l'ha ricordato Questa conferenza stampa Infatti io le dichiarazioni Che ho fatto ieri Sono abbastanza chiare Cioè Io Fin da subito E forse si è dimenticato Grigoletto Di questa cosa Ho detto che la politica Dei partiti Deve stare fuori Dalla giunta Bitonci E chi ci ascolta Lo sa benissimo Le cose che abbiamo fatto In questi due anni Sono cose importanti Tanta parte di programmazione I cui gli effetti Li avremo nei prossimi mesi Infatti tante opere pubbliche Stanno partendo adesso Perché è logico C'è una parte di programmazione E una parte di realizzazione Comunque la città è molto cambiata E abbiamo lavorato moltissimo Il sindaco è stato H24 Sempre presente Il sindaco è un sindaco decisionista Io mi ritengo Un amministratore molto esperto Sono 23 anni Che faccio l'amministratore locale E se avessi E lo dico sorridendo Dei problemi caratteriali Non sarei stato eletto Né prima sindaco a Cittadella Né poi sindaco a Padova In realtà Io ho qui cittadini Un rapporto splendido Ho cattivi rapporti con la politica Cioè Con la politica Diciamo di bottega Cioè Con la politica di poltrone Con la politica Che mi chiede di mettere Le persone nei posti Cioè E questo è la cosa Che a me Non piace Con dei temi tirati fuori dopo Cioè Il plebiscito È stato votato dai consiglieri Dalla giunta Non c'è stato nessuno Che ha detto Ah Quando abbiamo scelto Di finanziare il plebiscito Siccome dopo Il sindaco È amato A Padova Dei cittadini E quando vado Nei ricevimenti Nei quartieri I cittadini vengono E parlano con il sindaco Siccome quando Io A differenza magari di altri Quando mi ferma un cittadino Per strada Mi fermo E chiacchiero O quando vedo un anziano Come prima Che era in centro Che girava da solo Con Che sembrava quasi perso Mi sono fermato Ho chiamato la polizia urbana Io ho chiesto di raccompagnarlo a casa E mi ha spiegato Che la La moglie era mancata Da una settimana E che non sapeva Mi diceva Sono lato di alzheimer E non so Non mi ritro E ho chiamato la gente E l'ho fatto Io cerco di fare il sindaco Come farebbe Un padre di famiglia Poi Se i problemi caratteriali Sono Che quando dico una cosa È quella Va bene E quando si decide una cosa Si va avanti E quando il consiglio comunale Ha votato Tutti Cioè io lo dico anche Alle polemiche di oggi Dei soliti Noti Del PD Che dicono Ricordiamolo Per dovere di cronaca Oggi il PD Ha fatto una conferenza Stampe Comune Dove ha detto Praticamente La maggioranza Rischio Visto quello che è successo C'è il rischio di questo Allora Diciamo al PD Una cosa chiara Il PD è stato bocciato Dagli elettori Due anni fa Bocciato Il sindaco Il sindaco Bitonci Ha vinto con 7000 Preferenze Di distacco E' stato il risultato Migliore Da sempre A Padova Ecco Quindi non è mai successo Da quando c'è l'elezione Diretta Del sindaco Non quando L'elezione del sindaco Avveniva attraverso La mediazione Del consiglio Della giunta Dei partiti La gente ha voluto Massimo Bitonci Sindaco Che se ne facciano Una ragione Cioè io per i prossimi Tre anni farò Il sindaco Di Padova Con una maggioranza Compattissima A parte Queste scaramucce Dei due consiglieri Su quattro Di Forza Italia Che hanno fatto Alcune dichiarazioni L'altro giorno Peraltro smentite Da altri due consiglieri Di Forza Italia In questi giorni Quindi capite Che la contesa È un po' interna Al partito Di Forza Italia Ma In questi due anni Non c'è stata Una delibera di giunta Con Un voto contrario Né Degli assessori Di Forza Italia Che sono tre Cioè quattro consiglieri Tre assessori Mi pare che siano Bene rappresentati In giunta Un vice sindaco E altri due assessori Cioè mi pare una cosa Molto così Molto lineare Quattro consiglieri Quattro consiglieri Hanno sempre votato A favore di tutte Le delibere Di questa amministrazione Cioè ci inventiamo A posteriori Che sono due anni Che ci sono Dei problemi Di tipo caratteriale Da parte Del sindaco Cioè ma Ma stiamo Adesso Qui non siamo Qui non siamo Ai giochini Stiamo giocando I giochini Della politica Io sto amministrando Una città Io gli ho detto Io vado avanti Amministrare la città Va bene Con una maggioranza Solida Con tanti consiglieri Che vengono In consiglio Stanno una Due Tre Quattro ore A votare Che vengono In pre consiglio Che vengono Si informano Sui temi Se altri Non si informano Sui temi Se altri Non gli interessa Magari Quello che stiamo Facendo Non c'è mica Nessun problema Massimo Andiamo avanti Lo stesso Ricordiamo i numeri Perché Io non so cosa facesse Prima Bettino Chi ha detto Che non ci sono I numeri Oggi Ma Avete studiato Matematica A scuola O avete fatto Degli altri Corsi Di studio Per cui Stavo chiedendoti Quanti sono I consiglieri Che sono Con Massimo Vittonci E quanti sono Quelli che Abbiamo tranquillamente 18 consiglieri Più i due Diciamo Di quella corrente Di Forza Italia Che è adesso uscita In questi giornali Peraltro Non condivisa Tutta la città Perché solo la città Si è mezza Rivoltata Su questa Su questa cosa qua Cioè Quindi 18 18 L'opposizione Sono 11 Ma di cosa Stiamo parlando Cioè Stiamo parlando Un consigliere Ecco C'è una maggioranza Assoluta Che ha Il sindaco E che Andrà avanti Nei prossimi tre anni Quindi E la trovo Anche un po' Stucchevole Questa polemica Perché Anche prima Sulla viabilità Dico francamente Io Ieri Ho Riaperto Via Tomaseo Questa era una scelta Fatta Dall'assessore Grigoletto Senza neppure Dirmi niente Poi l'anno scorso Scelta che io Non ho condiviso Ma ho rispettato Ma ho rispettato La scelta Dell'assessore Appena Settimana scorsa Ho rivisto le deleghe E quindi Ho riportato La delega Tra me L'assessore Botton Della viabilità E messa Quei lavori pubblici Dove restare Ho riaperto Via Tomaseo Centinaia Di messaggi Oggi Della gente Bravo Sindaco Su via San Francesco Dico un'altra cosa Per dire Il sindaco Che ovviamente Il sindaco Deve scegliere tutto Deve decidere tutto E dopo parliamo Anche del tema Dei biciclette Su via San Francesco E' la gente Che non vuole L'apertura Alle macchine Via San Francesco Cioè L'assessore Grigoletto Se la può mettere via Cioè Se il sindaco Decide una cosa E gli assessori Sono delegati Vuol dire Che hanno la delega Del sindaco Ma se il sindaco Decide In difformità Di un assessore E decide il sindaco Lo sanno tutti Gli assessori Non c'è un assessore Che dica una cosa Quando interviene il sindaco Sono delegati E il sindaco Può avvocare a sé Qualsiasi tipo di decisione Questo è il mandato Che mi hanno dato I padovani Che sono contenti Se qualcuno invece Ha problemi Di visibilità Ha problemi Stando vicino al sindaco Si ha visibilità Andando contro il sindaco Non si ha visibilità Questa è la realtà Certo Cioè funziona così Più stai vicino al sindaco Vuoi avere la tua visibilità Stai vicino al sindaco Non è dicendo Contro a quello che dice il sindaco Che tu ottieni la visibilità Comunque I partiti Fuori dalla giunta Perché tanto Noi lavoriamo per i cittadini Lo dico C'è qualcuno Che i partiti Li vuole portare in giunta Non sarò certamente io Mi dispiace Vado avanti lo stesso Sono andati questi due anni Andiamo avanti i prossimi tre anni Senza nessun problema Massimo La domanda Te la faccio Per quale motivo Secondo te Forza Italia Ha convocato In questa Fatispecie Con Grigoletto Questa conferenza stampa Perché hai tolto Delle deleghe A loro Un paio di settimane fa Perché sono stati Spinti dall'alto Per quale motivo L'ho fatto Con la conferenza Questo è un tema loro Comunque so che È stato convocato Visto che è stata Questa richiesta Da parte Ripeto Di una parte Di Forza Italia Perché i consiglieri Sono quattro In consiglio comunale E gli assessori Sono tre Adesso Non mi pare Che ci sia Una univocità All'interno Del partito Anzi Mi penso Si è una deflagrazione Abbastanza Importante Ciò che non c'è Nella Lega Ciò che non c'è Nella lista Bitonci Assolutamente Anzi La lista Bitonci Aumenta di componenti In consiglio comunale Perché La consigliera Sai è passata In lista Bitonci La Lega È salda Tranquilla Con i suoi componenti E all'interno Della componente Di Forza Italia Che ci sono Di quattro consiglieri Due che non vengono Neppure invitati Alle riunioni Di un capogruppo Di Forza Italia Ma che il sindaco Io sono sindaco Di tutti i consiglieri Non li metto in fila Tu sei di una Io li invito Tutti quanti I consiglieri A parte ovviamente I consiglieri Che attaccano il sindaco Questo è normale Ma i 18 consiglieri Tranquillamente Vengono tutte le riunioni Non hanno nessun problema Con il sindaco Anzi condividono le scelte Tutti i giorni Dopo quello che è successo I temi Che avevano avuto Che avevano avuto Colloqui Abbastanza Diciamo così Pesanti Intensi Con l'assessore Io Li ho sentiti Io direttamente In 15 minuti In 15 minuti Esatti Abbiamo risolto il problema Saranno i 23 anni Di esperienza Sarà questo brutto Carattere che ho No va bene Che quindi parlo Con la persona In un quarto d'ora Abbiamo trovato Una soluzione Cioè Non si pedonalizza Più via del Santo Come qualcuno Voleva Passeranno ovviamente Le macchine C'è il traffico TZTL Quindi traffico limitato Però abbiamo organizzato Un trenino Tutto l'anno Che porta I turisti Da il centro In via del Santo Quindi abbiamo organizzato Loro I commercianti Fanno un contratto Per il trasporto Con questo trenino Il comune Dà un piccolo Contributo Economico Visto che è un servizio Di carattere pubblico E in 15 minuti Esatti Abbiamo risolto il problema Dopo due anni Deve intervenire il sindaco Per queste cose qua Ognuno a casa Poi farà Le proprie Riflessioni Perché tanto Io i cittadini Cioè In questi due anni A 100 150 Ogni ricevimento E poi tutti quelli Che vedo per casa Mi ho incontrati Migliaia E a migliaia Ho dato le mani A migliaia Ho parlato E quindi Si sono già fatti Un'idea Di questo Brutto carattere Che ha Il sindaco Bitonci Che però È un sindaco Che decide Perché se io devo decidere Una cosa Decido Prima per venire qua Sono passato Al rotatore della stanga Che stiamo Asfaltando Qualcuno Non la voleva Io l'ho voluta Mi sono impuntato E mi pare Che sia un grande Un grande progetto Su via Su piazzale Boschetti Stiamo facendo Un progetto Meraviglioso Nella rotonda Del fagiolo Definiamolo così Perché ormai Conosciuta come tale C'è una rotonda Dove c'è una rotonda Dove c'è la fontana L'altra Cosa succederà È una curiosità mia Cresceranno degli alberi Un'altra fontana Cosa Dei monumenti principali Di Padova Una skyline Di acciaio Che sarà illuminata Da sotto E quindi Quando si arriverà Dall'autostrada Si vedrà Questa skyline Di Padova Illuminata Con la scritta Padova Città d'arte Ero stanco di vedere Quelle sculture Che non ho mai capito Quali significato Abbiano E sembrano Siano sculture Sarà un disegno Delle cupole del santo Di santa giustina Di palazzo della ragione Quanto lo vedremo Io ti faccio sempre L'abbiamo già disegnato Deve essere realizzato Io penso che per Ottobre Novembre Dovrebbe essere Completo Mi scrivo tutto Quello che mi dici Dovrebbe essere completo Stiamo progettandolo adesso Ci saranno dei lavori da fare Con dei piloncini Sarà molto bello E anche molto importante Ecco Sarà illuminato Con i led Sarà un impatto Importante Per l'ingresso Quello è l'ingresso Della città Con il tuo assessore Che ha una fiducia di te Beh tutti direi Sì sì ma no Io parlo Perché parlo con questo Che è qualcosa Di incredibilmente Straordinario Ho scommesso Un paio di cene Che deve rispettare Le date Lo so Se te l'ha detto Poi a microfoni Spendimenti Ti dirò quali sono Vabbè Allora abbiamo capito Speriamo che comunque Al di là di tutto La cosa Ma io penso che sia Che sia una questione Ripeto Legata un po' Anche alla visibilità Che Che alcuni magari Giustamente vogliono Ecco però Il tema è Che forse Forse Il cittadino Il cittadino è ben chiaro Il cittadino sceglie Il sindaco Nel nuovo sistema elettorale Il cittadino sceglie Il sindaco Cerca Sceglie chi conduce La città Questa che fotografia Questo è un disegno L'hanno messo apposta Vedete quella skyline là Cioè questo è Un progettino Fatto Dai nostri ragazzi Abbiamo fatto Una selezione Di 80 80 disegni Fatti Dai nostri Ragazzi Ne abbiamo scelti Alcuni E questo è stato Quello diciamo così Vincitore Di questo del Marchesi Di scuole Di scuole del Marchesi E la E hanno fatto E' stato per loro Un esercizio Fatto con i professori L'abbiamo esposto Anche a Palazzo Moroni Idee incredibili Ne hanno pensato Di tutti i colori Questa è quella Che c'è Sembrata Quella più Bella L'ha fatto una Ragazza Vedete che c'è La croce Dopo non verrà Proprio così E ci sarà questa skyline Disegnata Di acciaio Che raffigura Diciamo I monumenti principali I monumenti principali Di Pado Bene Vediamo Anche questo Ma io sono sempre poi Affascinato Da quella storia Tu sai Ormai Io non vedo l'ora Di vederla Mi auro di vederla Velocemente Sta venendo Benissimo Da Piazzale Boschetti Il progetto Di Piazzale Boschetti E il Morgagni Sta venendo una cosa Meravigliosa A settembre lo presentiamo Ecco io è quella Che ormai Ogni volta Che ci passo davanti Dico non vedo l'ora Di vederla Perché mi affascina Moltissimo Vabbè Allora torniamo Le nostre Abbiamo capito Cosa è successo Ieri Dopo questa conferenza Di Forza Italia Infatti specie Dell'assessore Grigoletto E ritorniamo indietro Perché è stata una settimana Molto movimentata La scorsa Per il sindaco Massimo Mitonci Ed è stata movimentata Ovviamente Con molte cose Diciamo punti fermi Anche messi Anche nel programma elettorale Certo No no Parliamo un po' di quelle Forse hai fastidito un po' quello Cioè tante cose fatte Qualcuno un po' Si agita Vado anche al di fuori di questo Parlo per esempio Della stampa Che per entrare Aveva bisogno Di determinate regole Benz Che poi è stato Cambiato Andiamo a vedere il servizio Poi commenteremo in studio Nuove regole Per i giornalisti Che devono entrare In comune A Padova Le disposizioni Già adottate per cittadini E turisti Sono state estese Dal primo luglio Ai giornalisti Che quotidianamente Vi accedono Per fare il proprio lavoro Inizialmente Per entrare a Palazzo Moroni Bisognava fermarsi Alla guardiola Consegnare un documento Dire in quale ufficio Si intendesse andare O quale assessore O consigliere Si intendesse incontrare Si teneva così un badge E quindi L'ingresso Era permesso Una disposizione Presa dall'ufficio Del gabinetto Del sindaco Contestata dall'opposizione Ma anche Dall'ordine dei giornalisti Tanto da indurre Il primo cittadino A delle modifiche Ora Gli operatori Della stampa Possono accedere A Palazzo Moroni Con un badge Personalizzato Dalle ore Dieci e mezza Fino alle ore Tredici E possono svolgere Il proprio lavoro Dall'apposita Sala stampa Che rimane dotata Di telefono Computer E stampante Allora Fatto questa ordinanza Poi è stata Ovviamente È nato un puttiferio A livello nazionale A livello Dell'ordine giornalista No in realtà Non era un'ordinanza Cioè nel senso Che era Un'indicazione Che veniva dato Dal direttore generale Per l'accesso A Palazzo Moroni Cioè L'accesso A Palazzo Moroni È stato regolamentato Anche per Per il tema Della sicurezza pubblica Nel senso Che qualsiasi persona Un cittadino Che viene a Palazzo Moroni Ovviamente Può entrare Ma deve dire Dove va E deve munirsi Di un badge Ma Funziona così Anche in regione Funziona così Anche in provincia Cioè funziona così Da tutte le parti Cioè se tu vai dentro Un palazzo Devi per forza Dire dove vai E cosa fai Non penso che Per quanto riguarda I giornalisti Deve essere una cosa Tanto così Astrusa e diversa Ed è stato regolamentato L'accesso Dicendo Conferenza stampa Oppure Se devi andare Sia dall'opposizione A maggioranza Dici dove vai Ti viene dato un badge E così Dopo il badge È diventato Da temporaneo A permanente Per cui i giornalisti Hanno un badge Lo mettono Ma mi pare che sia Una cosa normalissima Cioè in tutti i posti C'è l'ufficio stampa Dove si fanno Però Padova Che è sempre Una cosa un po' particolare Con questa Opposizione E questo Soprattutto con Una stampa Non tutta Una stampa Di un giornale In particolare Che è E poi L'ufficio stampa Che il giornalista Del mattino Mi aveva detto Che non si poteva Più entrare Ma Eh Gli ho detto Ma poi se cosa vuoi A Milano qua Il mattino Neanche si legge Cosa vuoi che sappia Io del mattino Cioè Mi ha risposto così Certo E anche E anche Buttafuoco Il giorno dopo Che io conosco E peraltro Mi ha scritto anche Ti ho fatto anche votare Ecco Però è logico Che se viene Come succede speso La notizia Può essere data In un modo O in un altro No Cioè Domani Nonostante I 18 consiglieri Più 2 20 E 11 D'opposizione Il solito quotidiano Scriverà Il titolo Che io ho detto Subito Possibile Commissariamento Di Padova Maggioranza A rischio Cioè Bisogna fare Per forza L'opposizione Sui giornali Con i titoloni Questo è il tema Comunque C'è una regolamentazione I giornalisti Hanno loro Cioè Ci sono posti Dove neanche hanno L'ufficio stampa L'ufficio stampa Con il computer I telefoni Voglio farlo L'avvocato difessore In questo In questo caso Massimo Bitucci È tutto vero Quello Che tu dici Però è anche vero Che Mentre il turista L'uomo di passaggio Il cittadino Entra ogni tanto Il giornalista Deve essere presente Tutti i giorni È stato dato un badge Definitivo E basta Adesso che è stata cambiata Però il fatto che uno Possa girare Dovrebbe far parte Possa girare Dappertutto Anche dove non ha titolo Certo Lo sanno tutti Lo racconto Ai giornalisti La barzelletta Di un giornalista Che era appoggiato Con le orecchie Alla sala della giunta Io siccome ci sono due porte Io sono uscito da dietro Per andarmi a prendere Un documento Sono entrato da davanti C'era il giornalista Appoggiato alla porta Ma io penso Che ci sia anche un minimo Cioè se io sto facendo A giunta Devo avere qualcuno Che ascolta Dietro la porta Ma c'è un problema Un problema gravissimo Io avrei potuto segnalare Questa cosa Lasciamo stare Per carità Però insomma Ogni tanto mi chiedo Se ci sono delle micro spie Messe dappertutto Ma siamo arrivati A un livello Veramente di aggressione Di aggressività Da parte di alcune Componenti Ma lo dico sorridendo Perché a me fa anche ridere Sta roba Perché mi fa sbellicare Dalle risate Dopotutto sai Se sei iscritto a un partito E fai il giornalista Non è che sei iscritto al PD E poi fai il giornalista Oppure sei del gruppo Repubblica E per cui ti danno Indicazioni Bisogna fare la guerra Massimo Bitonci Per fortuna Ripeto Che ci sono Le televisioni Per fortuna Ci sono le cose Dove tu parli E non ti filtrano Le cose che dici Ecco Dove l'opposizione Dice una cosa Su un'intervista in tv E la maggioranza Il sindaco Dice una cosa E dopo il cittadino Decide Decide E non che c'è qualcuno Che interpreta Sia le cose che dici tu Che le cose che dici tu Sono gli altri E ci mette anche il commento E magari con la tessera del PD Attaccata dietro E su questo Condivido Perché il giornalista Dovrebbe raccontare Quello che succede Aggiungo che il giornalista Deve essere per natura Un curioso E quindi non è giusto Questo che vada lì Però è naturale Tanto ormai Bisogna fare la classifica Di retroscena C'è un retroscena Negli ultimi due anni Si è avverato No E però Continua a scrivere Retroscena Questo diventerà Assessore Quell'altro diventerà così Bittonci I giornalisti Che sono essenziali La curiosità Sicuramente Avere lo scoop Delle volte anche Sbagliando Certo la libertà E la terza cosa Che tanti si dimenticano Che il giornalista Il giornalista Il giorno dopo si dimentica Cioè se lui scrive Qualcosa di sbagliato Si dimentica Perché deve trovare Un nuovo scoop E quindi È però Però lo scoop Adesso non vorrei Dedicare la trasmissione A questo Cioè lo scoop Non può avere Non può avere diritto Su quella che è La realtà delle cose Cioè tu devi dare anche Devi descrivere La realtà delle cose Un'opera pubblica È stata fatta? Sì Sono state aperte Le sede della polizia municipale? Sì Sono diminuiti i reati? Sì È stato fatto questo? Sì E dopo metti Il retroscena Ma il retroscena Lo scoop Non può diventare La notizia principale Perché se no Diventa solo Solo gossipata E lì si distingue Il bravo giornalista Danno bravo giornalista Dico io E dopo Siccome quelli che fanno I titoli Sono quelli che fanno La politica Nei giornali Tu puoi trovare Anche il bravo giornalista Che scrive Un articolo serio Che però viene Spunta Una frase Di tutto un articolo E diventa il titolo Che viene letto Dal 90% Delle persone Insieme ai sottotitoli Le prime quattro righe Chi fa questo lavoro Lo sa E sa che facendo così Fa politica E quindi Prima La sera prima Va Al Pride Village Con quelli del PD Come settimana scorsa Decida la linea politica Della settimana E il giorno dopo Fanno i titoloni Sui giornali Cosa riportata 30 mila giornalisti Che erano presenti Una delle cose Di Massimo Bitonci Quindi capite la serietà Una delle cose Di Massimo Bitonci Che apprezzo E lo dico Mai conoscendo Credo abbastanza bene Pado È che Massimo Bitonci Può Lo dico in termini Abbastanza semplici In modo che venga Compreso a casa Può anche fare Un'ordinanza Oppure come in questo caso Mettetela Chiamatela come volete Che non è Definita bene E poi il giorno dopo Correggerla Come tante altre Questo è un segnale Di grande qualità Da parte Di chi governa Una città Da un mio modesto Punto di vista Se guardate il tema Il tema Per esempio Della polemica Anche questa qua Sulla pedonalizzazione Delle piazze Poi ne parliamo Poi ne parliamo Abbiamo un servizio Che su questo qui Però per anticipare Il tema Della pedonalizzazione Cioè il tema Di quello che voleva fare Massimo Bitonci C'è riuscito E che i padovani chiedevano Era di togliere le auto Lì avete sbagliato La polemica è andata Tutta sulle biciclette Che peraltro I vigili Come era noto E come così Permettevano tranquillamente Il passaggio Allora Allora Poi ne parleremo Qualcuno fa le polemiche Preventive Io sono contento Perché l'avevo chiesto In questa trammissione L'avevo detto in questa trammissione Che in piazza Dei signori C'erano le macchine Parcheggiate Sotto l'orologio Uno scandalo Ed era Ed era Ed era Non l'ha fatto nessuno Agli ultimi 30 anni Adesso nel passare Tutto un altro vivere Tutto un'altra Credo che anche Chi abiti lì Insomma Poi ne parleremo Poi ne parleremo E la cosa Ho saputo Che le biciclette Voi non volevate togliere Per quale motivo Poi sono state tolte Anche se Correndo C'era un problema Di pericolosità Dovuta A denunce Continue Sull'Isto E su altre zone Dove vengono investiti I padovani Per cui Siccome è un'ordinanza Limitatissima A piazza dei signori Piazza delle erbe Piazza della frutta Cioè un'area Ecco Molto così E allora Inizialmente Si pensava Che anche se qualcuno Poteva scendere E condurla a mano Il problema Non era poi così Grave Dopo visto che In effetti Si poteva passare A velocità moderata L'abbiamo detto Puoi passare Però A velocità moderata Che vuol dire che no Ieri mi è venuto un nervoso Passavo in centro In macchina E C'era una ragazza Possiamo entrare in studio C'era una ragazza Giovane in bicicleta Aveva avuto 17 anni Ed era in bicicletta Con il telefonino E ovviamente Correndo Per la strada Andavamo un po' A zig zag Ho abbassato Finizione della macchina E ho detto Guardi Si fermi A parlare Così Mi ha fatto il dito Cioè a 17 anni Una volta Almeno uno ascoltava Gli anziani Adesso mi ha fatto il dito E vanno via Ci sono Soprattutto gli anziani Sono quelli che mi dicono Questa cosa Cioè Io non Non c'è giorno Che vado fuori Nelle piazze E che mi fermo A parlare Con qualche anziano Che mi dice Sindaco Cosa è il problema Di bicicletta Allora facciamo così Facciamo così Massimo L'abbiamo anticipato Chiedo alla regia Se Stravolgiamo la scaletta Prendiamo Nell'ultimo servizio Del servizio Della pedonalizzazione Così Poi ne parliamo Dopo il servizio Di Elisabetta Corazza Perché L'abbiamo anticipato Quindi è giusto Non ritornarci dopo Se la regia Ce l'ha pronta Andiamo ad ascoltarlo Prosegue la sperimentazione 21 Il sabato Dalle ore 16 E la domenica Dalle ore 9 Per la seconda settimana Di sperimentazione Tuttora in corso Le bici Possono transitare Liberamente E il blocco Del sabato Per le moto È stato posticipato Alle ore 20 A presidiare Il rispetto Del provvedimento Fin dalla prima sera Sono stati posizionati Agenti della polizia Municipale In diversi punti Della città Pronti a dare informazioni I cittadini Sulle nuove regole E a farle rispettare Risultato Niente parcheggio selvaggio Sotto monumenti Quali la loggia Della Gran Guardia E la torre dell'orologio Non più rumori di motori E nemmeno L'odore dei gas di scarico Che raggiunge I tavolini dei locali Stavamo già parlando Mi sembra L'abbiamo già detto Ma io ho avuto Un grande e grande soddisfazione Su questa decisione Ne abbiamo discusso qua Certo In trasmissione Io quando Dico una cosa Quando abbiamo parlato Degli schermi Anche Però te l'ho consigliato Insomma Io Questo sindaco Con questo carattere Tremendo Ecco E' così tremendo Che quando uno mi dice Una cosa Lo ascolto Ha avuto un bel successo E che quando Ha avuto un successone Peccato per la Nazionale Che non ha Insomma Non è andata avanti Adesso te la butto lì Adesso te la butto lì Se si potrà fare Non so però In base agli orari Ma si È un orario diverso Ci sono le Olimpiadi Non si sa mai Dove essere interessante Fare un punto anche per le Olimpiadi Solo che Ci pensiamo In Brasile Non so Per vedere gli orari Perché probabilmente sarà Molto Le cose Ma molte volte ascolto E ci penso anche molto Alle cose che mi dicono Sia i cittadini Ma anche i giornalisti Ma anche le persone Insomma Che trovo In giro E Anche questa cosa Nasce da una richiesta Di cittadini Cioè quella di togliere Le auto Dal centro E devo dire Che ho avuto Un grande applauso E mi spiace Che per un brevissimo periodo Di qualche giorno Nonostante l'avessi detto Perché Fin da subito ho detto È sperimentale Le biciclette Dovranno tornare Lasciatemi sperimentare Tre giorni Polemica Tre giorni Ovviamente Bloccate le bici Ovviamente abbiamo Rimodificato l'ordinanza Abbiamo permesso L'accesso Non succede niente Il tema Dell'invasività Delle biciclette A Padova Nei conflitti di pedoni Esiste Dicevo prima Tanti anziani Mi fermano E mi dicono Sindaco C'è il problema Delle biciclette Che vanno addosso Ai pedoni Il problema esiste Vengono dette Delle cose Anche tutte le volte Scorrette Perché Le isole pedonali Si chiamano Isole pedonali Non isole ciclabili Quindi Nelle isole pedonali Io potrei citare Decine di casi Che mi hanno Anche scritto I cittadini Nel mondo Copenaria Dove ci sono Prendono la bicicletta Pedonali Cioè Si prende la bicicletta E si fanno Sti 50 metri Guardate Ma pensate Che sacrificio È Fare qualche metro Portando la bicicletta Comunque adesso Si può andare A velocità Moderata Quindi saranno Sanzionati Quelli che correranno La soluzione La soluzione È ottimale La gente È contenta Le piazze Sono piene Nonostante luglio È sempre un mese Dove c'è un calo Importante Perché la gente Comincia ad andare Ovviamente Al mare Contenti Anche i commercianti Abbiamo Accontentato Anche i commercianti Sotto salone Nel senso Che i motorini Possono accedere Al sabato Abbiamo Davanti al comune Abbiamo creato Una zona Nuova Per i motorini Dove ci saranno Una cinquantina Di motorini Messi ovviamente A pettine Perché ovviamente La gente si muove In bicicletta E in moto Il problema È stato risolto Ho trovato strumentali Appunto Che anche là Nell'intervista Fatta prima Qualcuno parla Ancora di sta cosa Quando il tema è risolto Se è risolto È risolto Cioè Parliamo sempre Del passato No certo Ma tu Io credo che Un sindaco Che è nominato Tale In una città Ha tre quarti Di abitanti Che l'hanno votato In maggioranza ovviamente È una parte Che non l'hanno votato Ovviamente La parte che non vota È più rumorosa Rumorosa Di solito È più rumorosa È più rumorosa Quindi è naturale Che però Ripeto È come il tema Del plebiscito No Parliamo anche Del plebiscito È come il tema Del plebiscito Cioè La parte Diciamo così Rumorosa È estremamente Minoritaria Rispetto alla parte Silenziosa Che invece fa Padova stanotte Era tappezzata Di striscioni Ovviamente Sono tanti ragazzi Presumo della Fattoria Se non lo so Però Se andiamo a vederli Allo stadio Appiani Alla L'Eugano stesso Che poi È messo molto male L'Eugano Perché abbiamo Ecco La storia del tifo Continua Il plebiscito Insomma Padova È stata tappezzata Di questi manifesti Ovviamente Ci sono I ragazzi C'è anche Lo stemmo Ovviamente Della tribuna Fattori Che desiderano Eccolo Il plebiscito Subito Quindi Ovviamente Dopo aver sentito Determinate Critiche Si è formato Sto comitato Del nono Dove c'è Mica Lizzi Suo papà Per dire Come funzionano I comitati Tre quattro amici Ho visto il nome Di uno nuovo Che sul giornale Che era però Faceva parte Del circolo Del PD Quindi alla fine È una cosa Che ha un sapore Tanto politico Oppure Per voler solo Andare contro Una decisione Che è già presa Perché anche La storia del parcheggio Allora La storia del parcheggio È una scelta Direi importante Nel senso che Abbiamo dato in gestione All'APS La realizzazione Di un parcheggio Di più di mille posti auto Che diventerà Un parcheggio Molto economico Cioè Un euro Per mezza giornata Due euro Per tutta quanta la giornata Con il bus Che si fermerà Proprio davanti Quindi la possibilità Di lasciarla alla macchina E venire poi in centro È a 100 metri Dal capolinea del tram No Di Ponte Vivo d'Arzere Per cui anche là Basta Quindi abbiamo fatto Una scelta Per dire Dottiamo la città Di un parcheggio Che non serva solamente Per le partite Dello stadio Ma serva anche Tutta la settimana Io penso che questa sia Una scelta Lungimirante No una scelta Cioè Io Rimango male Quando vedo Parcheggi degli stadi Come l'Euganeo Vuoti Per mesi E che si riempiono Una volta Ogni 15 giorni Solo il periodo Delle partite Del calcio padua Adesso è pieno Perché c'è raggio C'è una manifestazione Però di per sé Durante tutto l'anno A parte le manifestazioni Rimane vuoto Quello è uno spreco C'è la cosa importante Che un parcheggio Sia un parcheggio Scambiatore Però poi ci rimarrà Ancora di più Se un giorno Il Pado andrà via Dell'Euganeo Lì rimarrà Tranne qualche concerto Certo Rimarrà una zona Sono d'accordo Dopotutto l'Euganeo Non lo vuole nessuno E quindi cosa si farà? È uno stadio fatto male È uno stadio che potrà Essere utilizzato Per i grandi eventi E solamente per i concerti Le massi obiettivamente ce ne saranno La partita di ottobre Che ci sarà Del test match Tra l'Italia Avremo la nazionale italiana Ancora ad ottobre Tanto per far capire Quanto è importante Lo sport padovano Perché dopo Si parla magari Di qualche corsa Che è stata cancellata Perché lo sponsor Non Ma non si parla Magari del miti dell'atletica Non si parla Dei grandi test match Che abbiamo fatto Non si parla del calcio Non si parla Del Valsugana Che ha vinto Il campionato Finile di rugby Dell'Hockey Su Prato Che ha vinto Il Cus Non si parla Non si parla Del calcio Che ha vinto femminile Non si parla Di tutte quelle cose Si parla Si parla Massimo Perché ho avuto Sendo organizzatore Si parla Che sono aumentati Molto i costi Per gli impianti sportivi Di Padova Si diceva Che un campo Tipo il Vermili Si pagano 160 euro Per una partita Più 40 Per le pulizie 200 euro Essendo un Impianto comunale Allora Anche qui Ha stata attaccata All'essore del Rampazzo Per aver Aggiornato Delle tariffe In base Alle tariffe Fatte in tutte le altre Città del Veneto Cioè È stato preso Quello che si fa In tutte le altre città del Veneto Cioè Non è neanche giusto Che un impianto Venga usato E che non ci sia Un minimo di ristoro Visto che Nella maggior parte Dei casi Pagano i Padovani Il 70 L'80% Delle spese Cioè Bisogna far capire Anche che L'acqua calda Perché Non è che perché La paga il Comune Bisogna stare Un'ora e mezza Sotto la doccia Va bene Oppure Bisogna lasciare Andare via Lasciando le luci Accese Perché paga Po Siccome Non paga più Po Lentone Va bene Ma pagano i Padovani Anche qua Abbiamo fatto un'operazione Direi Che sta dando Dei riscontri Molto positivi Perché ovviamente Quando uno paga Sta anche attento No Quando poi La società La società Non ha più Che il Comune Paga il 100% Le spese Ma ne paga Il 50% Più di l'acqua Capito E quando un impianto Tu devi pagare Un importo Per andare Lo tratti meglio Anche Questa è la realtà Uno che paghi È corretto Sono d'accordo con te Magari Un po' meno Dico questo Per avere Un po' meno Invece che 200 euro Una partita 160 Direttore I cittadini sappiano Che noi diamo Centinaia Di migliaia Di euro Di contributi All'associazione sportiva Con cui pagano Anche queste cose E tutta l'attività giovanile Noi attraverso A PS Il gruppo era E quindi abbiamo Un contratto con loro Diamo 250 mila euro All'associazione sportiva Dando 10 mila 20 mila 5 mila Noi come Comune Diamo più di un milione Di euro Di contributi vari Per le attività E la maratona E il meeting E gli eventi sportivi E le tribune Ma non le società Che giocano per divertirsi Come le amatoriali Ma dalle maggiori Alle minori Dal ping pong All'hockey femminile Dalla serie B Alla serie C Alla serie B Quanto lo sanno Che la pallanuoto Femminile Ha vinto il campionato Io l'altro giorno ho detto Care ragazze Stiate portando avanti Veramente Lo sport E la scherma E la sciabola E cioè Di tutto c'è a Padua Ma subito questo studio A lunedì Sono venute Tutte queste società Ultima Il Virtus Del calcio Del calcio femminile È stato promosso In serie B E che l'anno prossimo Avrà bisogno di soldi Perché la trasferta Per la serie B femminile Comprende anche la Sardegna Il basket femminile Il basket femminile La pallavolo Cioè Quest'anno è stato un anno Di grande Di grande sport Padovano Hai portato meglio A Cittadella Che è stato promosso In B E il Padova È rimasto in C Lavoriamo quest'anno Perché il Padova Va bene Andiamo in pubblicità Poi abbiamo tante altre cose Importanti da raccontarvi A tra poco